ma carina celine non perdetevi il video che viene dopo è stato portato al parco con dalla nonna super stilosa non perdetevi il video che viene dopo le sue prime adidas ciao il video è stato portato al parco con il video è stato portato al parco con il video Grazie per la visione!